Una nuova opportunità per tutti gli appassionati della fotografia. Vedremo in questo video Giulio Gennari e il suo staff riconfermare con grande successo il terzo workshop fotografico con una grande ospite dell'evento, Olga Rovba, che ha curato acconciature e make-up delle modelle. Diversi temi trattati, rock, moda e glamour. Siamo qui alla fine del workshop di Giulio Gennari con Olga Rovba, che ha curato per noi quest'oggi l'acconciatura e ha curato il make-up. Uno dei fotografi che hanno partecipato al workshop è qui, Roberto Gaspari. Ciao a tutti, oggi è stata un'esperienza particolare. Giulio ci ha insegnato a gestire al meglio le luci per tirare fuori tutto il possibile dal trucco, quindi trucco e parrucco, far risaltare gli occhi, i capelli e tutto ciò che riguarda il make-up artist. Ringraziamo Olga che è stata gentilissima, bravissima nelle truccare le modelle. Ci siamo divertiti come sempre, ormai Giulio Gennari è sinonimo di qualità e divertimento. Allora Giulio, che ci dici la giornata odierna? La giornata odierna ovviamente ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo anche da imparare e insieme penso che la fotografia è un mezzo di comunicazione così grande che accomuna una passione e tanta cultura, quindi spero di aver raggiunto i risultati e gli obiettivi prefissi e poi verranno sul web, sulle riviste, in tv, quello che abbiamo combinato. Ciao, un saluto a tutti e soprattutto il programma di Giorgio G-Style e voglio dire che oggi abbiamo avuto un workshop con tutti i fotografi famosi. È stata una bella esperienza, oggi ho interpretato uno stile rock con fotografi diversi. Abbiamo iniziato il workshop stamattina dalle 9, abbiamo cambiato diversi allestimenti, siamo partiti dalla moto e siamo finite con una bicicletta particolare. Ci sta una truccatrice molto brava, un new talent che si chiama Olga Robba. Il set fotografico mio con lo stile rock è stato molto particolare, molto bello, soprattutto abbiamo fatto con una moto Harley, abbiamo provato diverse luci, i fotografi hanno provato diverse macchine fotografici, fotografiche. È stata un'esperienza diversa e particolare. Saluto anche i miei colleghi, saluto tutti, ciao, grazie di tutto. Tantissimi fotografi hanno partecipato ai lavori, iniziate alle ore 9 del mattino, fino a sera con un coffee break incluso. Il tutto si è svolto all'interno dello studio fotografico di Giulio Gennari, in via Missiconi 14, presso centro commerciale Il Molino. Ciao a tutti, un saluto particolare a DigiStyle. Oggi siamo qui perché c'è stato un workshop di fotografi e quindi siamo state fotografate con diverse macchinette. È stata un'esperienza diversa, anche divertente. Per la prima volta mi hanno insegnato anche a posare, insomma, come mettermi con le luci, penso anche con lei. Lei rock, io sono stata più sul bonton, ho fatto due cambi, uno con una poltroncina che secondo me è stato il più carino, il primo con un vestito nero, l'altro con un cactus così per giocare e far finta di essere nel deserto. Un saluto a tutti, vi ringrazio per l'esperienza e poi spero di avere gli scatti a breve. Grazie a tutti. Ciao a tutti. È stata una bellissima esperienza, è la seconda volta che partecipo e le ragazze erano belle, il trucco ben fatto. Bellissima esperienza che spero di poter tornare a fare nel prossimo workshop. Abbiamo una sirena con un costume disegnato. Come ti chiami? Simona. E che lavoro fai invece? Commessa. Ok, e oggi come ti trovi qui? Come mai sei stata coinvolta in questo workshop? Mi ha chiamata Olga. Ok, quindi conoscevi la truccatrice, insomma. Da quanto tempo stai qui e quanti set fotografici pensi di fare? Non ne ho idea, sono qui da un'oretta credo e non so quanto tempo ancora. Fino a stasera stare qua, non ti preoccupare. Mi raccomando, in bocca al lupo per il set e un saluto a tutti quanti. Crepi, grazie, un saluto, ciao. Un saluto finale a tutto lo staff e a Giulio. Ovviamente per la location e tutta la situazione bellissima. Comunque vi aspettiamo tutti quanti numerosi qui nello studio di Giulio. Ci vediamo prossimamente. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. workshop fotografico realizzato il 13 aprile 2013 con lo staff di Giulio Gennari grazie